La prima considerazione che faccio è che tra un mese saranno 14 anni che la Federal Reserve ha inaugurato la stagione del quantitative easing. In verità era stata già inaugurata dalla Bank of Japan molto prima, però comunque in maniera molto più blanda, non così aggressiva come invece ha fatto la Federal Reserve, poi ovviamente seguita dalla BCE e anche da altre banche, in particolare penso alla Swiss National Bank con la sua politica aggressiva di bilancio, soprattutto su asset non domestici. Però vediamo lo spaccato, vediamo il rendimento dell'indice globale, Global Aggregate, la misura del rendimento di tutte le obbligazioni a livello mondiale, e quindi questa costante discesa ovviamente spinta dalle banche centrali della politica tassi zero, ma anche da fattori chiamiamoli più strutturali, più di lungo periodo come la demografia, come l'eccesso di risparmio, come i cambiamenti sul lato della produttività dovuti alla globalizzazione, dovuti all'entrata in gioco di componenti macro elettroniche, sempre più spinte, sempre più intelligenti che hanno cambiato un po' il modo di produrre. Però noto come si sono susseguiti diversi programmi di quantitative easing, non ultimo il QE4 con il Covid, ovviamente manca anche il PEP, il programma di acquisti pandemici della BCE, però direi che a livello di politica internazionale la Fed è più sistemica. chiaramente il PSPP, il programma di acquisti sulle obbligazioni pubbliche nel 2015, ha avuto un effetto in particolare sugli spread in Eurozona, però il punto è che dopo 14 anni praticamente ci siamo rimangiati il 90% di questa discesa dei rendimenti, con l'indice che ormai sta oltre lo yield dell'indice globale che sta oltre il 3,5%. Simile è anche stata la dinamica delle obbligazioni a tasso negativo, vi ricordate forse due anni fa che si guardava a quante obbligazioni ormai avevano un rendimento, un yield negativo, era un po' un indice del successo del quantitative easing nel tentare di gestire la stabilità finanziaria e le condizioni di politica monetaria. Quindi è stato un momento brutale, questo è il mio punto, qui veniamo al punto, è stato un momento molto veloce e in 14 mesi abbiamo rimangiato 14 anni di, chiamiamola performance, se vogliamo, poi bisogna capire il cedo del tutto, però a spanne il movimento è stato veramente brutale. Non parte oggi, non è stato solamente un momento alle ultime settimane, giustamente tu evidenziavi la Bank of Finland e il yield inglese che ha avuto dei movimenti estremi, però questo movimento parte già da la fine del periodo Covid, la fine dell'anno scorso, ovviamente ha avuto delle accelerazioni quest'anno, però comunque un movimento che parte già da un po' di tempo e nonostante ciò la velocità con la quale si sono mosse i mercati obbligazionari talvolta ha avuto degli effetti negativi sulla capacità delle banche, dei fondi e dei privati e anche delle banche centrali di rimodulare, di ricomporre i portafogli, di ricomporre la composizione dei portafogli. In tutto questo, ovviamente, noi sempre facendo un passo indietro alla prossima slide, eravamo partiti dal 2010-2011 con il grande tema dell'austerità, del deleveraging, bisognava a tutti i costi ridurre la leva, il debito pubblico, il debito privato, non doveva mai più succedere una Lehman Brothers, non doveva mai più esserci una grande crisi finanziaria, beh, la storia invece è tutt'altro, il debito globale, globale in assoluto, pubblico, privato, sta oltre i 300 mila miliardi di dollari a fine 2021, con una percentuale sul PIL che ha toccato addirittura il 350%, oltre il 360 nel 2020. Quindi non c'è stato, in verità, quel processo di deleveraging, di riduzione del rischio, di ammortizzazione della leva finanziaria, anzi, questa leva è andata aumentando in particolare durante il periodo Covid, periodo Covid che è stato caratterizzato da forti interventi di carattere monetario e anche di carattere di politica fiscale. Quindi comunque il sistema, se vogliamo, economico, globale, si basa ancora adesso, anzi in maniera più pesante, sul concetto della leva. Il PIL che vediamo oggi, i PIL dei vari paesi che vediamo oggi, riflettono anche in larga parte questa forte leva finanziaria, che da un punto di vista, chiamiamolo, storico, se mettessi il cappello dello storico dell'economia, è necessaria perché in assenza di un aumento della produttività, in assenza di radicali cambiamenti sul lato della tecnologia, le economie sono destinate a crescere comunque intorno al PIL potenziale. Questo PIL potenziale si può alzare solamente o con, appunto, delle invenzioni, un cambiamento tecnologico oppure con sequenziali aumenti della leva finanziaria. Questo è quello che bene o male abbiamo fatto. Tra l'altro la cosa va a pari passo con la politica monetaria, cioè nella misura in cui le banche centrali hanno fatto quantitative easing, così sono riuscite a favorire l'indebitamento degli stati, ma anche l'indebitamento dei privati. Chiaramente come second round effect c'è stato il fatto che tanti emittenti di obbligazioni, tante aziende, sono riuscite a finanziarsi ai tassi di interesse molto molto competitivi e chiaramente con questo sono riusciti a pompare gli utili. Addirittura si sono spinti a volte a emettere obbligazioni per poi ricomprare le proprie azioni, quindi cosa vuol dire? Aumentare il debito, ridurre l'equity e quindi aumentare a sua volta ancora di più la leva finanziaria. Quindi in tutto questo diciamo che quel deleverging, quel movimento al ribasso per quanto riguarda l'indebitamento degli stati e delle corporate che tutti auspicavano, in primis il Fondo Monetario Internazionale, l'hanno fatto fare per forza la Grecia, però poi in qualche modo si sono fermati, non l'hanno fatto fare altri paesi, perché si sono accorti che facendolo fare un po' tutto il mondo si sarebbe prolungata sicuramente la fase di depressione, quindi non era una politica azzeccata in quel contesto. Detto questo, poi le politiche del Fondo Monetario Internazionale sulla carta sono sempre belle, al riscontro pratico invece sarebbe da fare un punto critico, ma su questo forse faremo tutta una puntata, perché ce ne sono di esempi anche particolarmente perniciosi. Il debito pubblico però si sta riducendo lentamente, alla prossima pagina vediamo una stima del Fondo Monetario sempre, e cioè qual è l'effetto dell'inflazione sul debito pubblico, cioè rispetto al 2020, ottobre 2020, qual è l'effetto stimato, il contributo dell'inflazione è misurata ad aprile del 2020 rispetto a quello che era la stima di due anni prima, quindi ovviamente più inflazione più scende il valore reale, se vogliamo, del debito pubblico, anche per effetto dell'aumento del PIL nominale. Quindi i triangolini indicano la riduzione attuale dal 2022 del debito pubblico dovuta all'inflazione, in giallo era la stima precedente e la differenza sono le barre blu. Quindi si nota sicuramente un effetto, chiamiamolo positivo, partiamo da un punto, da una nota ottimistica, un effetto positivo dell'inflazione sul debito pubblico. C'è sicuramente un effetto positivo dell'inflazione in termini di trasferimento intergenerazionale del valore, del patrimonio, nella misura in cui le corti più anziane della popolazione hanno ripagato il loro mutuo e sono esposte in particolare a asset finanziari, quindi perdono con l'inflazione, perdono parte del loro potere d'acquisto, del loro valore reale, però d'altro lato le corti più giovani che non hanno ancora avuto, che hanno di tanti cedolini del lavoro, quindi per comprare una casa devono prendere un mutuo e non hanno abbastanza cash per poter essere grandi investitori sul mercato finanziario, però ci guadagnano dall'inflazione, perché chiaramente avendo il mutuo dovranno ripagare in futuro un valore reale sempre minore. Quindi c'è effettivamente uno shift intergenerazionale di patrimonio, di valore dovuto all'inflazione, però è anche vero che se, questo è il lato negativo dell'inflazione sul debito pubblico, in generale le sue economie, è vero che se la crescita nominale, che poi è quella che va a impattare sul debito pubblico, sulla capacità di stabilizzare e ammortizzare il debito pubblico, dovesse essere composta, quindi questa crescita nominale, questo P nominale, dovesse essere composto esclusivamente da inflazione e in parte molto minore da crescita reale, allora sarebbe un effetto sì negativo sul debito, quindi riduzione del debito, però automaticamente è anche una riduzione del nostro potere d'acquisto. Quindi una specie di mezza misura, molto meglio sarebbe avere una crescita nominale molto forte, dovuta in larga parte alla crescita reale e in una piccola parte all'inflazione, in questo caso ridurremo il debito e saremo anche più ricchi noi stessi. Quindi sì, siamo in una fase di riduzione, parzialmente parziale riduzione del debito, in termini reali, però siamo anche in una fase di impoverimento perché il nostro potere d'acquisto, come lo sappiamo, si vince dalla discussione, televisione, nei giornali, ormai di dominio pubblico di questi giorni. Cosa ha fatto la politica monetaria? Qual è l'effetto di tutto questo sulla politica monetaria? La politica monetaria che stava in una situazione di tassi di interesse praticamente frozen a zero dal 2010, forse c'è stato un movimento, un tentativo di rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve prima del Covid, però è stato velocemente riassorbito dallo shock della pandemia. La politica monetaria chiaramente si è mossa in maniera più o meno sincronizzata, chi prima, chi più tardi, forse la Banca del Giappone è l'ultima che ancora deve decidere cosa vuol fare, però si sono mosse tutte le banche centrali con tassi di interesse a rialzo, quindi sorge la domanda, ovviamente questa è una domanda che ci siamo chiesti già, ci siamo posti già in passato, fino a che livello potrebbero arrivare i tassi di interesse? Guardando la Fed, si possono analizzare diversi indicatori di mercato, però forse un modo per farlo altrettanto valido potrebbe essere un'analisi macroeconomica, però in questo caso bottom up, cioè guardare alle singole componenti che poi vanno a influire sul tasso ufficiale, nominale, il tasso overnight, il Fed Fund Target della Federal Reserve, partendo allora da un tasso di equilibrio reale che alla fine non è null'altro che la crescita potenziale di lungo periodo, il tasso di interesse deve essere in linea con la crescita potenziale, con la crescita della produttività, altrimenti ci sono degli scompensi nel sistema sul lato salari, sul lato prezzi, eccetera, attualmente questa crescita potenziale è stimata intorno al 2%, chi dice 1,5%, chi dice anche di meno, ho sentito dire anche 0%, però partiamo dal presupposto che siamo intorno a 1,5% o 2%, se a questo ci aggiungessimo l'inflazione, l'inflazione è che quella che guarda la Fed è la PC inflation, in questo caso però prendo PC core, in essenza fette di energia e di beni alimentari siamo intorno al 5%, quindi i tasse di interesse adesso dovrebbero già stare intorno al 6,6,5%, siamo ancora al 3,25%, ovviamente questa analisi non può tenere conto dell'inflazione attuale, perché a meno che l'inflazione non rimanga al 5% per i prossimi dieci anni, cosa che anche nelle nostre previsioni che come sapete sono un po' più spinte sull'inflazione, però è abbastanza improbabile, bisogna tentare di capire quale sarà l'inflazione per il ciclo, quindi per i prossimi diciamo 2-3 anni, che se vogliamo è anche l'orizzonte dentro il quale si muove la capacità, gravita la capacità di una banca centrale di fare politica monetaria, di avere un effetto sull'economia. Questa inflazione è stimata sicuramente al di sotto del 5%, diciamo tra il 2 e il 2,5%, quindi 2 più 1,5% sono 3,5%, 2,5% più 2, 4,5%, quindi tra il 3,5% e il 4,5% potrebbe trovarsi questo tasso di interesse, chiamiamolo di picco, della Federal Reserve, dove appunto una volta arrivata dovrebbe cominciare a ragionare sulle prossime mosse. Se guardo il mio Pricer adesso, partendo da 3,25%, il prossimo meeting, che è quello del 2 novembre, è prezzato 2,75%, quindi 50 punti base, sono più prezzati più di 50 punti base perché il tasso effettivo sta sotto il tasso target, però sono prezzati circa 65 punti base di rialzi, quindi dovremo arrivare intorno a 3,75%, sicuramente entreremo in una fase, chiamiamola di politica monetaria restrittiva, più ci avviciniamo al 4% e più andiamo oltre il 4%, più la Fed potrebbe effettivamente, arrivata lì, cominciare a dedicare un po' di tempo all'analisi di quello che è stato fatto e di quello che ancora deve essere fatto, cioè quelle famose parole di DJ Powell che presagiva appunto una Fed che potrebbe addirittura in qualche modo fermarsi e valutare l'operata e valutare ancora appunto il da farsi. Noi pensiamo che questo punto non è ancora arrivato, quindi a 3,25% non ci siamo ancora, probabilmente saremo più vicini a questo punto intorno al 4%, potrebbe essere realistico pensare che nei prossimi due meeting come prestato dal mercato la Fed arrivi tra il 4 e il 4,25% e poi possa veramente ragionare un attimo su quello che è lo stato dell'arte. Non essendoci ancora arrivati, i mercati chiaramente si portano già avanti, però attenzione, perché potrebbe bastare un commento più hawkish da parte di un esponente dell'FMC, del Federal Open Market Committee, per cambiare di nuovo la bilancia e andare a prestare ulteriori rialzi e quindi questo avrebbe di nuovo un effetto di aumento dei rendimenti, avrebbe di nuovo un effetto negativo sull'equity, un po' sulla falsariga di quello che abbiamo visto già a giugno e soprattutto durante il mese di agosto. Le banche centrali non hanno però solamente una leva che è quella del tasso di interesse e quindi per influenzare l'andamento dei mercati obbligazionari in particolare possono utilizzare anche il bilancio, come abbiamo visto dalla prima slide, le varie, in successione, le varie epoche di quantitative easing. Il risultato di questo quantitative easing lo vediamo alla slide successiva, la slide numero 5, che è meno male la somma dei bilanci della Banca Centrale Europea in euro e della Federal Reserve in blu in dollari. smontare questi bilanci equivarrebbe a fare quantitative tightening. Ora si può fare in maniera aggressiva e quindi ridurre, non solo ridurre la montare che va rinvestito, quindi le cedole e le scadenze che vanno rinvestite, quindi in questo caso non andrebbero più investite, ma addirittura andare a vendere sul mercato titoli di Stato e obbligazioni mortgage, come sono quelle che sono in pancia alla Federal Reserve. Questo ultimo passo non è ancora stato deciso, per il momento si parla solamente di una riduzione della somma di bilancio attraverso il non rinvestimento di scadenze di Ciro. La stessa cosa per la Banca Centrale Europea, che però a breve si dovrà riunire, dovrà essa stessa decidere su che strategia utilizzare per evidentemente rientrare su questa somma di bilancio. in entrambi i casi siamo tra il 40 e il 50% del PIL, quindi 40 e 50% del PIL in termini di somma di bilancio. Non siamo sicuramente a livelli della Bank of Japan o della S&B, però comunque sono a montare importanti che avranno necessariamente un effetto sui mercati, perché non dimentichiamoci che i mercati obbligazionari, in assenza di un acquirente netto, come può essere la Banca Centrale Europea, in particolare faccio periferimento ai titoli di Stato italiani, potrebbero dover trovare un acquirente sul mercato aperto e questo acquirente a questi livelli di prezzo potrebbe non esserci. Quindi un'ulteriore incertezza, un'variabile sul lato dei mercati obbligazionali. Passo velocemente ai mercati e quindi per tentare di capire quali sono stati i flussi di investimento, come si sono mosse gli investitori da inizio anno, lo vediamo nel grafico a sinistra, in rosso di nuovo il rendimento, lo yield del tragiore decennale, in blu abbiamo i flussi su tutto l'universo dei tips, che sono le obbligazioni legate all'inflazione. Vediamo che i flussi sono stati molto modesti, quest'anno in ultima analisi direi leggermente negativi, però c'è da fare una precisazione, i flussi qua includono sia le obbligazioni indicizzate a scadenza breve, come anche quelle a scadenza più lunghe. Sulle scadenze lunghe si sono osservati in effetti i flussi importanti in uscita, sulle scadenze brevi invece i deflussi sono stati molto minori, anzi ci sono stati dei flussi positivi in entrata, quindi il flusso netto andrebbe letto in base alle scadenze. Lo vediamo infatti sui treasury nominali, in verde e scuro vediamo i forti flussi sulla parte lunga della curva, mentre invece è più interessante guardare secondo me la parte breve della curva, quindi quelle obbligazioni DTF legati al rendimento del treasury da 1 a 3 anni che si muovono in effetti quasi in linea con l'andamento dei rendimenti. Questo è normale perché gli investitori quando guardano a posizione investimenti complementari al conto corrente una volta che dovesse aumentare il rendimento del treasury a 2 anni al 4% chiaramente potrebbero spostare soldi del conto corrente e comprare il mercato del treasury. Stesso rischio paese, anzi addirittura un rischio di credito minore rispetto a tenere i soldi sul conto corrente delle banche. Quindi questo tipo di comportamento da parte degli investitori si vede in particolare appunto tra la linea verde in chiaro in pastello e il rosso che è appunto il rendimento del treasury decennale. Sulla parte lunga della curva invece secondo me gli investitori si sono sempre lasciati tentare dai picchi di rendimento e però non hanno compreso appieno il trend quindi se vogliamo è in atto un grande pack sul treasury io compro ogni mese tanto prima o dopo il mercato gira ecco il mercato quest'anno non è girato è partito da livelli molto bassi siamo arrivati a toccare il 4% la settimana scorsa devo dire che questa strategia per il momento a meno che uno non abbia avuto proprio il timing perfetto non ha proprio pagato le posizioni al momento sono corte lo vediamo nel grafico a destra il grafico a destra fa vedere il blotter il bilanciamento del mercato sui 30 più grandi investitori nel mercato dei future delle opzioni del treasury come vediamo il mercato è ancora in una situazione di posizioni corte non così estreme come forse prima del covid però sicuramente siamo in una situazione dove non c'è molto ottimismo sul mercato del fixed income ancora no ancora no mercato del fixed income che quest'anno si è mosso come abbiamo detto dovuto alle posizioni dovuto a questo cambiamento questa transizione da 14 anni di quantitative easing a una situazione che si è riversata però si è mosso anche a pagina 7 perché sono aumentati di molto i tassi reali cioè nel 2021 è vero che sono salite le aspettative di inflazione lo vediamo nella linea arancione che sono il break even quindi l'aspettativa di inflazione prezzata dal treasury dal tips decennale legato all'inflazione però nel 2022 invece le aspettative di inflazione sono flat non si sono mosse sono addirittura scese scese un po' è chiaro le forecast per gli Stati Uniti danno un'inflazione che dovrà scendere nei prossimi anni si può dibattere su quanto dovrà scendere e a che livello si stabilizzerà come sapete noi siamo più aggressivi del mercato il mercato prezza sui prossimi 12 mesi se l'inflazione media negli Stati Uniti tra il 2 e il 2 e il 4 noi pensiamo che sarà più alta però il netto di tutto ciò sarà più bassa rispetto ai livelli attuali quindi ci sta che le obbligazioni a lungo termine abbiano già scontrato questo sul breve termine poi possiamo aprire una finestra però devo dire che una delle componenti che ha portato agli aumenti del treasury nominale che ha portato a questo sell off sulle obbligazioni globali è appunto l'inalzamento del rendimento reale e cioè il rendimento al netto del rischio di inflazione questo è legato in particolare anche alle prospettive di crescita le prospettive di una ripresa ovviamente siamo tornati a livelli che sono più consistenti con i rendimenti reali che vigivano prima dello shock da covid lo shock da covid è stato proprio molto negativo per i rendimenti reali noi siamo tornati oltre adesso siamo in una fase di overshooting probabilmente nella misura in cui dovesse stabilizzarsi il rendimento nominale sul treasury ci sarebbe anche una stabilizzazione sul rendimento reale quindi ne potrebbero di nuovo godere i titoli indicizzati all'inflazione in particolare quelli a lunga scadenza oltre a questo ovviamente non lo vediamo nel chart però ve l'ho proposto mi sembra la settimana scorsa o due settimane fa c'è stata anche una forte accelerazione delle aspettative sui tassi di interesse in particolare ad agosto con la speech tj powell a jackson hall e poi tutti i falchi che si sono gettati proprio a nastro a seguire questo questo quest'ulteriore accelerazione quindi queste due sono state le cause primarie del sell off in particolare di quello che abbiamo visto nel mese nel mese di settembre andando avanti penso che sul lato dell'inflazione potrebbe esserci di nuovo una piccola sorpresa quindi potrebbe essere che adesso cambi un po' la composizione dei driver sul mercato obbligazionario magari sarà meno il tasso reale sarà più l'inflazione forse potrebbe esserci una stabilizzazione delle aspettative sui tassi ma questo lo vedremo perché con un'inflazione in salita se dovessero esserci ulteriori sorprese come quelle che abbiamo avuto sull'inflazione europea che era prevista a 9,6 poi è uscita a 10 allora potrebbe essere che questo momento non sia ancora arrivato e che ci possa essere un ulteriore replay di quello che abbiamo già visto nel mese di giugno e nel mese di settembre gli errori di politica monetaria come mai è avvenuto quello che è successo in UK beh a parte che il sistema UK è comunque un sistema diverso perché comunque ci sono gli effetti più profondi dell'operato dei fondi pensione c'è una regulation sui fondi pensioni anche molto diversa quindi dopo anni di quantità divisi le posizioni in particolare sui derivati dei fondi pensioni erano così estreme così a leva che un piccolo movimento di mercato ha portato gli scossoni appunto sull'operatività di questi grandi player che hanno dovuto vendere quello che avevano di più liquido che erano prodotti cash governativi oppure prodotti cash sul credito quindi si è visto proprio il riflesso di questo movimento sui prodotti derivati sul mercato diciamo delle obbligazioni più plain vanilla però il movimento è stato brutale lo vediamo in questo chart cosa vi faccio vedere sembra il battito cardiaco di un paziente in verità sono le variazioni giornaliere dello yield sul guilt a 5 anni dal 1992 a questa parte è stato il movimento più forte in un solo giorno della storia del mercato delle obbligazioni inglesi storia recente probabilmente ci sono stati i movimenti più violenti dovuti alle guerre penso alle guerre napoleoniche eccetera però diciamo nella storia recente di mercato finanziario sviluppato con mercato dei derivati anche è stato il movimento più più volento quindi questo è sicuramente uno dei temi per i quali forse alcune banche centrali sono meno aggressive si sono mostrate meno aggressive rispetto anche solo prima della settimana scorsa perché potrebbe esserci il rischio di un policy mistake qual è il policy mistake è qui ne abbiamo parlato in tutte le salse è stato ripreso questo tema mi faceva notare l'egreggio collega Galli che anche Ignazio Visco governatore della Banca della Banca d'Italia ha ripreso questo tema il tema è molto semplice non si può fare politica monetaria restrittiva alzare i tassi ridurre i bilanci per combattere l'inflazione e nel contempo fare una politica fiscale espansionistica e cioè dare soldi a gettito a imprese e cittadini perché se così facciamo facessimo avremo un effetto molto negativo sulle aspettative l'inflazione sarebbe la stessa sarebbe la falsa riga di quello che è successo con la politica fiscale nel dopo Covid cioè vi ricordate arriva lo shock Covid due mesi di recessione pesantissima le banche centrali fanno quantitative easing i governi cominciano a dare soldi direttamente ai cittadini non attenzione non alle banche pregandole di erogare prestiti mutui ai cittadini ma direttamente nelle tasche di cittadini questa è una grande grande differenza questi soldi sono stati in parte risparmiati però anche in parte spesi l'inflazione infatti è passata ad essere 0 o da 1% in media negli ultimi 10 anni al 10% attuale ecco quindi i mercati sono molto attenti a queste dinamiche e non vorremmo trovarci ovviamente tra x giorni mesi anni con una banca centrale che continua a aumentare i tassi a fronte di un governo che invece con aiuti bonus micro bonus super bonus biciclette e monopattini continua invece a essere espansionistica perché in questo caso si avrebbe l'effetto molto negativo di un'economia che rallenta per via della banca centrale che alza i tassi mentre l'inflazione è fuori controllo per via appunto di un'entra politica fiscale molto espansionistica questo è secondo noi il rischio che si corre a fare questo tipo di policy mix il mercato lo ha correttamente letto e ha correttamente punito il governo inglese per questo chiamiamolo errore per questo esperimento che evidentemente è andato male perché come dicevi tu c'è stato subito un backpedaling da parte di Liz Truss finisco con le performance però con una nota positiva per una volta le performance voi le sapete tutti anche noi sono pessime non si possono guardare in particolare il mercato obbligazionario perché è la puntata di oggi però voglio fare voglio aprire un dibattito su o dare uno spunto positivo prima di concludere cioè mentre la colonna yield to worst quindi dopo hedge on hedged c'è la colonna yield to worst che è il rendimento attuale quindi lo yield to maturity lo yield to worst scusate degli indici che ho elencato qua questo yield to worst era vicino a zero per in particolare i treasury ma anche il global aggregate era molto basso addirittura si parlava di tassi negativi anche l'anno scorso adesso cominciamo a vedere dei rendimenti degli yield che sono positivi anche molto positivi come per esempio il global yield che sta intorno al 10.3% in dollari un hedged con un profilo di duration peraltro più basso rispetto agli altri mercati quindi comunque meno rischio di duration più rischio di credito e una cedola molto molto interessante però al netto di tutto questo non voglio fare un pitch sulla yield voglio dire che dal punto di vista della costruzione del portafoglio comincia ad essere un esercizio più bilanciato come è nei libri di finanza ecco perché un bond deve avere comunque un cash flow di income si chiama fixed income quindi qualcosa che nel tempo sia prevedibile non può essere una commodity il cui valore è dato esclusivamente in base all'andamento del prezzo in base all'andamento del vento ecco se piove non piove il grano poi subisce delle variazioni non può essere così il fixed income anche perché comunque è un prodotto di riferimento in particolare i bond le obbligazioni governative sono un prodotto di riferimento per tutti i mercati pensate solo che le valutazioni azionarie per esempio vengono scontate quindi il valore di nazione viene derivato appunto scontando i cash flow dei dividendi per esempio futuri con il rendimento delle obbligazioni governative quindi non può essere che sia passibile di movimenti così rapidi e di movimenti così aleatori come le materie prime adesso finalmente abbiamo un rendimento abbiamo uno yield to maturity e possiamo costruire dei portafogli tenendo conto anche di questa componente quindi a letto di quello che è successo quest'anno secondo me in ottica futura cominciano a vedersi degli spiragli di luce per quanto riguarda anche il tema del grande tema della diversificazione che quest'anno sicuramente non ha funzionato mi taccio chiudo ottimo grazie mille ad Alessandro Tentori CIOX Investment Managers grazie per essere stato con noi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti